Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. Vi è mai capitato di trovarvi di fronte a una situazione del genere dove non potete cancellare un file perché Windows dice che è in uso? In questa situazione però abbiamo un problema specifico. Dice che il file è in uso perché è aperto in com surrogate. Quindi non è un file che Windows vede aperto e che può essere aggirato come problema attraverso il trucchetto con il RAR, ma ci sta dicendo che il file è aperto in com surrogate. Quindi come risolvere il problema? Infatti quando tentiamo di cancellare il file o dovete attendere diverso tempo e il file viene cancellato oppure se volete velocizzare il tutto, tasto destro, gestione attività, cercate com surrogate e terminate i processi. Quindi cliccate su com surrogate, su termine attività e poi cancellate il file. Quindi sono due le possibili soluzioni perché con il trucco di WinRAR non risolvete il problema in questo caso. Quindi o attendete e cancellate il file più avanti oppure procedete con la gestione delle attività.